Concludo la mia settimana segnalandovi un libro, cosa che non si fa più abitualmente. Un grande classico della letteratura mondiale e alcuni pensano che sia un libro magari più adatto alla giovane età. In realtà è un libro che ha molto da dire anche agli adulti e poi se siete curiosi questo libro ha anche dei riferimenti geografici e storici ben precisi. Potreste scoprire che l'isola citata nel libro esiste davvero e che proprio recentemente sono stati trovati anche dei reperti che riguardano il soggiorno della persona che ha dato via la suggestione libraria. Mi invito a leggerlo perché è importante, perché in Italia si legge ancora troppo poco e un grande classico non deve mai mancare nella vostra libreria.